Ciao e bentornati su Annecessari Pixels, il canale che vi fa scoprire un gioco nuovo ogni giorno. Io sono Paolo e oggi parliamo di All Star Fruit Racing. Che cos'è All Star Fruit Racing? Innanzitutto è un gioco in accesso anticipato. Quindi, come sempre per i giochi in accesso anticipato, prendete tutto quello che dico, cum granosalis, cioè quando voi provate il gioco, se sono passati 4 anni dall'inizio all'accesso anticipato, magari delle cose sono cambiate. Io posso raccontarvi la mia esperienza, tutto quello che non funziona può essere messo a posto, tutto quello che funziona può andare in vacca, lo scoprirete soltanto alla release definitiva. Cos'è? In pratica invece All Star Fruit Racing è un gioco di kart. Immaginate Super Mario Kart, diventa impossibile non fare questo paragone, però con la guida dei kart delle signorine, tutte a tema frutta. E tutti i livelli saranno a tema frutta. La signorina banana, sì, però c'è anche la signorina kiwi, o la signorina cocco. Meloni. Le meccaniche sono quelle classiche del gioco di kart, quindi avremo delle gare che potranno avere varie forme, che potranno essere gare in cui dovremo arrivare primi, gare eliminazione progressiva, gare di tutti i generi classici di gare che ci sono nei giochi di kart, ci saranno i bonus che potranno essere raccolti, con la differenza che i bonus avranno una particolarità, cioè caricheranno dei serbatoi colorati, a seconda dei serbatoi colorati che ci saranno caricati, genereremo dei bonus, degli attacchi, dei malos per gli avversari differenti. In alcuni livelli saranno sotto forma di box fluttuante, che lo prendiamo, abbiamo preso un bonus punto. In altri saranno sotto forma di fruttini, delle sferette trasparenti che galleggiano, e a seconda di quali frutti noi prenderemo, caricheremo uno o più di questi serbatoi. La cosa particolare è che un serbatoio farà una cosa, ma due serbatoi mixeranno tra di loro l'effetto e faranno una cosa differente. Quindi potremo scegliere che cosa caricare nei limiti delle nostre capacità di guida per sapere quale abilità avremo e potremo attivare. Cosa funziona in questo All-Star Fruit Racing? Allora, cominciamo dalla base. Uno, la grafica è colorata, divertente, simpatica, chiara, mi è piaciuta un sacco. Devo dire che me l'aspettavo più confusa, invece giocandolo è tutto molto chiaro, quello che succede, quali sono le piste, non ci sono dei momenti in cui rischeremo di non capire dove diavolo va la pista o sbagliare strada. Poi, la cosa del raccogliere la frutta per scegliere che bonus prendere, quindi cambiare la traiettoria a seconda se vogliamo, la velocità, i cubetti di ghiaccio a lasciare dietro piuttosto che il tornado lo mandare avanti, eccetera, eccetera, sarà molto interessante perché ci darà una cosa in più da migliorare nel momento in cui diventeremo bravi a giocarlo. E questa è una meccanica estremamente interessante. Molto carino anche il fatto che tutti i kart sono personalizzabili con un sacco di cose da sbloccare, le cose da sbloccare sono veramente tante, compresi parecchi personaggi che all'inizio non saranno giocabili ma che più avanti lo diventeranno. Apprezzatissimo, questo è molto raro che io lo dica, e quindi dategli il doppio valore, il fatto che dal sito, da quello che presentano gli sviluppatori di All Star Fruit Racing, i piani di sviluppo sono estremamente chiari, cioè già adesso c'è scritto ci saranno top personaggi, questo arriverà in questo mese, questo arriverà in quest'altro mese, raramente i giochi in accesso anticipato hanno questa chiarezza di piani che assolutamente è da elogiare perché fa piacere sapere cosa compro e cosa avrò quando il gioco uscirà. Funzionano bene i controlli, funzionano bene le musiche, le musiche sono molto simpatiche, molto allegre, molto divertenti. In generale è un gioco che funziona per quello che offre. Ultima cosa che mi sento di aggiungere all'elenco di cose interessanti è il fatto che esiste la possibilità di derapare durante il curvo e per curvarle più su stretto, ma questo surriscalda le gomme, che è una cosa, è una meccanica che non è una meccanica particolarmente originale, ma applicata ad un gioco di kart invece lo è. Si vede raramente un problema di questo tipo all'interno di un gioco di kart. Devo dire che mi è piaciuto perché ci costringe a stare attenti anche a come guidiamo e non soltanto a tirare il tornado, a sbattere contro le macchine di fianco e fare queste cose qua. Cosa non funziona di questo all-star fruit racing? Mamma mia, i nomi lunghi. Allora, incominciamo su un paio di cose non funzionano, ve lo dico onestamente. La prima è che i piani di unlock di tutti i collezionabili sono oscuri. Cioè, ogni tanto il gioco mi dice hai sbloccato questo? Chissà cosa ho fatto, chissà perché l'ho sbloccato, se potevo sbloccare in un altro, se posso fare qualcosa per sbloccare le cose più velocemente, non si sa, non ce lo dice il gioco. Così come a volte all'interno dei campionati, delle gare multiple, delle gare che sono composte da più gare, è difficile capire la classifica generale, non è chiara, in che posizione siamo arrivati, essendo arrivati una volta primi, una volta secondi, una volta settimi, una volta quarti. Chissà come sono piazzati gli altri, quanti punti ho fatto, dove sono in cosa devo fare, nel prossimo coso per vincere, non si sa. E altra cosa che invece non mi ha convinto per niente, forse per quello che mi riguarda è il problema più grosso in questo momento di All Star Fruit Racing, sono i bonus che danno degli attacchi posteriori. Nel senso che è molto poco soddisfacente utilizzare un attacco che attacca verso le spalle, perché in realtà noi non vedremo mai l'effetto che ha avuto l'attacco sui nostri nemici. Non sapremo neanche se ce l'ha avuto. Al massimo molleremo giù tre cubetti di ghiaccio, ripassando la seconda volta da quel punto del percorso vedremo che ne manca uno. Cosa ha colpito? Chi ha colpito? Non sappiamo. Probabilmente basterebbe in tutto questo evidenziare l'effetto anche solo nella minimappa facendo vedere che Tizio Caio che lampeggia fa l'effetto grafico è stato colpito dal nostro cocco gigante che gli va in faccia. che devo dire sarebbe più soddisfacente avere questo tipo di bonus se potessi vederne l'efficacia e rendermi conto se l'ho usato bene o l'ho usato male. Cari amici PCisti come me voi e anch'io Mario Kart su PC non ce l'avete ok? Quindi posso dirvi più bello di Mario Kart e meno bello di Mario Kart tanto non ce l'avete che vi frega quello che posso dirvi è che è un gioco di kart molto simpatico che fa il suo mestiere di gioco di kart secondo me con un po' più di cose messe a punto potrebbe essere un gran bel gioco al momento è un gioco divertente che si piazza abbondantemente sopra la linea della sufficienza tanto per capirci io mi ci sono onestamente divertito costa 15 euro su Steam è stato sviluppato da un team tutto italiano i 3D Cloud tutto non lo so team italiano tutto è forse una cosa un po' troppo specifica che non credo sia vera e io vi ringrazio per aver seguito questo episodio noi ci vediamo al prossimo ciao